Ciao amici miei! Siete pronti a prepararmi insieme le zeppole di Zastuseppe? Innanzitutto, prepariamo in giù! Mettiamo dentro il burro, l'acqua, un pizzico di sale e la mamma lo sa sciogliere sul fuoco! Lo facciamo sciogliere bene bene! Quando è sotto bene bene il burro, ci mettiamo la farina tutta insieme! E giriamo! Quando diventa così, la mettiamo in una ciotola! Ecco fatto! Ci mettiamo un uovo alla volta! E fuoiamo con il fuoco! Ci mettiamo! La notte la pasta su è pronta. Adesso rimpiamo in sacco a posto. Adesso tracciamo dei sacchietti. Ecco fatto, adesso le mettiamo in forno, sono cotte, ci mettiamo la crema pasticcera e queste buonissime amarene. Every morning comes a new chance to start over, every day is a treasure, live in the present cause that's all you got, each second is a blessing, go ahead and keep your chin up, I think you are beautiful, go ahead and keep your chin up, I think you are wonderful. Ecco le mie zeppole di San Giuseppe. Grazie per il like, un bacio per la sepparola. Mmm, è buona! Mmm... Mmm... Grazie per la sua fermione! C'è... Grazie a tutti.